Allora noi vogliamo dire grazie a Claudio, grazie a Miranda e alla tua scuola, la vostra scuola perché veramente questo è uno spirito crema, quello che tu hai provato l'hai trasmesso tu a Miranda tutto il gruppo, quindi da una persona a un'altra, un'altra, un'altra ancora noi salutiamo le scuole che per un motivo o per un altro non sono potute essere presenti ma il loro cuore c'è e quindi ci saranno le altre occasioni, quindi grazie, grazie, grazie Ok, grazie per questa amplificazione, è la miseria nuova Allora il primo grado è sul mio remix, mi fa andare, mi fa andare Sì, grazie Mio fratello era forte, mi bello e più bello di me Aveva una donna in comune, una macchina in tre Mi faceva conoscere gente che tu mi malediva Mi parlava di santi sovrari, di nuove famiglie Mio fratello trovava le sede per stare più su Mi diceva che tanta fortuna sarebbe avventata Io il piccolo grazie di terra dove pare pregava Lo guardava le occhie e te leva da verlo capito Salvo un uomo che bussa la mia porta Salvo un uomo che canta la finestra Salvo un uomo che scrive Salvo un uomo che ride Salvo un uomo che sarà un giorno di festa Mai più Mai più Mai più Mai più Mio fratello trovava il suo dito mai ringraziato C'è mia madre che ancora lo aspetta la bruna di Siena Lui non era cattivo, va bene, è così non scoppito Lo cerco perché se lo trovo un romanzo da me Salvo un uomo che bussa la mia porta Salvo un uomo che canta la finestra Salvo un uomo che scrive Salvo un uomo che ride Salvo un uomo che sarà un uomo di festa Mai più Mai più Mai più Mai più Salvo un uomo che sarà un libro Salvo un uomo che la vostra Salvo che pulsa la mia porta, salvo che canta la finestra Salvo che scrive, salvo che dire, salvo passare un giorno di festa C.M. Lens Grazie bellissimi, grazie La prossima scuola che si prepara per entrare in pista è la Class Academy di Green Dance Bravi, complimenti, un applauso a questa persona che sapeva entrare, un grande applauso Un applauso Un grande applauso Vi ricordiamo che